Pronti? Uno, due, tre. Attacca Ghipava che lascia sfilare il rivale. Numero sei, Lancelot Dulac squalificato. I primi 200 metri, intanto scatta la squalifica per Lancelot, 30 e mezzo il quarto iniziale, quindi 14 e mezzo la seconda frazione. Per Indy Lane che guida davanti a Ghipava, poi Miele dell'Orso. Più indietro c'è Lang Banans davanti a Nicchero, Noodles BF, quindi Oversize, 46 per i primi 600 metri. Ancora Ollolai e infine Never B. Completata anche la seconda curva, cavalli che si presentano al passaggio di fronte alle tribune in delay, in vantaggio Ghipava che lo segue sul Miele dell'Orso. Noodles BF che gradualmente risale a largo, lo segue nella progressione Ollolai. Quarto alla corda Lang Ban, a largo Nicchero, quindi Oversize con all'esterno Never B, primo chilometro in 1,18 e mezzo. Penultima curva, gruppo disposto in doppia fila con Indy Lane in vantaggio, Noodles a ridosso, Ghipava lungo la corda. A largo Ollolai. Sembra un po' in difficoltà Ghipava. Intanto c'è una frazione per iniziare secondo chilometro, un 15 scarso, Indy Lane, Noodles che lo segue, Ghipava che perde contatto con a largo Millibar, con a largo Ollolai che lo sopravanza. Poi ancora Miele dell'Orso, 500 per venire a casa. Con Indy Lane su Noodles, Ghipava che si è un po' ripreso lungo la corda, a largo sempre Ollolai, quindi Miele dell'Orso e Nicchero. Never B, Langeban, Oversize in coda. La curva conclusiva con Indy Lane sempre saldo leader, Indy Lane si è svincolato dal Noodles BF, 3 di vantaggio per Indy Lane all'ingresso e la retta di arrivo su Noodles BF. Poi Ollolai, Indy Lane in evidenza, poi Noodles, Ollolai al ciglio esterno Never B, Indy Lane controlla bene 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 fino in fondo e vince facile davanti a Noodles che finisce in linea con Ollolai. Indy Lane, Ollolai e Enrico Bellei, il training di Marco Azzaroni, i colori del signor Samuele Querci, 2,33 sul mio cronometro per i 2000 metri, quindi 16,5 che dovrebbe essere qualcosina in più per via della partenza da fermo, diciamo un 16,8, 16,9 potrebbe essere il riferimento per il successo di Indy Lane, Ollolai con Enrico Bellei. Per quanto riguarda la quota al totalizzatore, Indy Lane paga 3,18.